Era il maggio del 2012 quando il terremoto dell'Emilia fece sentire i suoi effetti anche a Vicenza, andando a danneggiare e rendere inutilizzabile lo studentato di San Silvestro, una struttura che metteva a disposizione 60 posti letto per altrettanti studenti dell'Università di Vicenza. Da allora a oggi quello spazio è rimasto chiuso e l'abbandono progressivo ha aggravato lo stato della struttura, tanto che i 400.000 euro stimati dall'ESU per rimetterlo in funzione probabilmente non bastano più. Ora arriva finalmente, dopo parecchie proteste, una buona notizia. Il Consiglio regionale ha approvato la nostra mozione con cui chiediamo di intervenire entro quest'anno sul San Silvestro, di avviare i lavori entro la fine del 2022. È un grande risultato, ormai da mesi portiamo avanti questa battaglia perché dopo dieci anni di chiusura Vicenza, il nostro territorio merita di avere uno studentato all'altezza, rinnovato, moderno e aperto. L'avvio dei lavori entro il 2022 è una splendida notizia per Vicenza che sta percorrendo con difficoltà il sentiero che la deve portare da città con l'Università a città universitaria. Al di là dei posti letto, la volontà di intervenire su San Silvestro va letta anche come volontà di investire sull'Università come priorità e in questa ottica va letto anche un secondo impegno contenuto nella mozione. Una città che vuole dichiararsi universitaria, che vuole crescere e puntare sull'Università e non semplicemente ad ospitare strutture universitarie, ha bisogno di uno spazio in cui accogliere gli studenti, in cui farli diventare cittadini a tutti gli effetti.